In Taujas, l'inciampo che si può fare in un discorso del genere. Destra e sinistra quindi sono uguali a questo punto? Forse la situazione della sinistra è più grave, diciamo in termini molto rozzi e generali. La destra ha sempre avuto un occhio molto attento alla prassi, allo stato di fatto, al rimedio delle situazioni concrete sulle quali si poteva mettere, dare una giustatina. La sinistra aveva degli ideali, degli orizzonti, delle prospettive che non ha più. Posso dire una cosa biografica. Quando io da giovane, poco dopo il liceo, mi andai a iscrivere al Partito Socialista Italiano, mi fecero un esame di marxismo alla sezione Ponte Lungo di Roma. Cioè un esame di marxismo. Io mi dovetti preparare, leggere un paio di libretti, intendiamoci, niente più di questo. Però mi dovetti preparare. Tale era la presunzione di dover incarnare non soltanto una linea di condotta politica, ma anche una scuola, una corrente di pensiero, uso un parolone, un ideale. Tutto questo non c'è più. Ecco perché dico che la situazione della sinistra è peggiore di quella della destra.